gentili telespettatori buona giornata anche travaglio a otto e mezzo è assolutamente realista e dice i 5 stelle sono gli sconfitti tra gli sconfitti eh sì ormai tutti hanno capito che il partito 5 stelle si regge sul voto di scambio del reddito di cittadinanza avete visto che il movimento 5 stelle al nord è il 6 per cento dove c'è meno disoccupazione al sud dove c'è alta la disoccupazione lì il movimento 5 stelle ha delle percentuali alte quindi il movimento 5 stelle è principalmente il partito dei disoccupati che sperano nel ritorno del reddito di cittadinanza che alle europee votano per qualcun altro perché lì il movimento 5 stelle non gli porterebbe nessun reddito anche se conte ci ha provato a dire votateci che portiamo il reddito europeo di cittadinanza gli è andata male perché il giuseppi lo sapeva perfettamente che il suo partito valeva la metà più o meno di quello che si diceva proprio per il voto di scambio del reddito di cittadinanza oggi ha preso meno del 10 per cento e così il direttore del fatto quotidiano marco travaglio dice sono gli sconfitti tra gli sconfitti il movimento ha perso più di 5 punti percentuali nel giro di due tornate elettorali no travaglio il movimento non ha perso il 5 per cento non aveva quel 5 per cento alle europee o perlomeno oggi non ce l'aveva non è che li ha persi alle politiche al 15 perché sperano nel ritorno al reddito alle regionali europee o comunali hanno il 5 per cento l'otto il 9 perché non c'è il reddito di cittadinanza è tutto lì non è che guadagna o perde dipende dal dal voto di scambio se c'è o non c'è poi commenta la vittoria di fratelli d'italia e dice non parlerei di una crescita o di una vittoria fratelli d'italia ha perso 700 mila voti ma ha guadagnato tre punti percentuali e dopo due anni di governo due anni di governare male a mio parere è un miracolo voi sapete che fratelli d'italia ha perso 700 mila voti e la lega di salvini ha perso 400 mila voti i due partiti hanno perso un milione e centomila voti sul totale degli elettori di questi due partiti c'è una perdita netta di un milione centomila voti però in percentuale sono cresciuti la lega cosa è cresciuta dello 0 1 e fratelli d'italia è cresciuto di almeno tre punti percentuali se non di più a questo punto analizza anche il risultato del pd e dice ha ottenuto diversi voti dall'area che la schline prometteva di smantellare ma di certo la segretaria che vince si festeggia come dire ha preso il 24 per cento bisogna festeggiarla per forza perché così funziona non puoi dire che la schline non funziona quando passa dal 20 per cento al 24 in un colpo solo e infine su forza italia dice un partito che ha raggiunto il 10 per cento anche grazie agli alleati che portava nel simbolo ma di certo dopo la scomparsa di un grande leader come silvio berlusconi di certo il successo è innegabile insomma travaglio non risparmia critiche ai 5 stelle prova a sminuire il risultato di fratelli d'italia perché questo risultato lo puoi leggere in due modi puoi dire hanno vinto 29 per cento hanno perso 700 mila voti la lega ha preso lo 0,1 in più ha perso 400 mila voti quindi sono risultati che puoi leggere tra luci ed ombre ecco però è stato abbastanza realista nel senso innegabile che forza italia sia cresciuta nonostante tagliani perché veramente il pd non si può dire nulla è cresciuto e il pd è forse l'unico partito che ha aumentato il numero degli elettori adesso la distanza con fratelli d'italia è di un milione un milione prima la distanza tra questi due partiti era molto più ampia quindi si è ridotta a un milione e la distanza oggi diciamo che quasi un 5 per cento quasi un 4 per cento di distanza con un milione di votanti proprio di scarto tra un partito e l'altro io come vi dicevo alla fine guardando le elezioni poi tutti hanno vinto fratelli d'italia ha vinto la lega ha vinto il pd ha vinto avs ha vinto hanno vinto tutti tranne il movimento 5 stelle che come abbiamo visto ha questo voto di scambio che ormai se lo porteranno a spasso per sempre perché i quelli che si dicono grillini alle elezioni italiane lo fanno solo per quel tornaconto sperando che conte possa tornare premier e possa ridare a tutti il re il famoso reddito di cittadinanza io a questo punto vediamo il prossimo video potrebbe essere lo scontro tra giannini e bocchino nuova merkel ti prendo in giro ok andremo a vedere il livore rancoroso di giannini in televisione perché ormai lui è ospite è ospitato perché lui è un grande commentatore in negativo del governo meloni quindi l'ex direttore della stampa viene invitato praticamente un giorno sì e l'altro pure nelle trasmissioni di sinistra perché uno che ti pontifica contro contro la meloni pontifica contro il centrodestra e poi cambia le carte in taglia lo vola sulla schline diceva che la schline non si capiva niente di quello che diceva oggi è diventata un grande capo politico del partito democratico perché è arrivata al 24 per cento e così travaglio gelido su conte alla fine guardate che non è colpa di conte se i grillini prendono manco il 10 per cento alle europee chiunque ci fosse stato al posto dei conte cipalippa il mago zurlì sbirulino chiunque al posto di conte avrebbe preso la stessa cifra perché non è conte o non conte quello che dice conte o no quello è un partito che si regge sul reddito di cittadinanza e poi dice votate noi perché se votate noi ci sarà la pace nel mondo di una superficialità e di un qualunquismo assolutamente devastante terrificante io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata